Esatto, a meno che tu non mi fermi di nuovo, signore e signori, che entri il nuovo leader di questa settimana dell'isola dei famosi. Mamma mia, Alberto, Alberto, sei per maloso. Ma come Alberto? Si chiama Alberto, adesso lo dico. Alberto si chiama. Ah, Alberto si chiama. Certo. Alvin, ma ti chiami Alberto, Alvin? Mi odia. Stam, ho fatto il viaggio. È bello Alberto? Alberto? Io mi chiamo Alberto, sì, ma pensa il mio nome. È bello Alberto. Sì. Perché sei arrabbiato? È un problema, scusate, ma c'è un problema con l'audio, non capisco più niente, nel dubbio ti chiamo Ilaria, Ilaria. Ma io mi chiamo Ilari. Andrea Lottini.